Eh, oh, oh, ora si che sei un figurino, ma ti sei visto? Ok, sì, dai, sono carino, in effetti, secondo te la beve così, il tuo padre, il fatto che sono un vampiro? Oh mio Dio, sì, assolutamente, sì, ma, ma, anche se non... Ma sei sicuro che non vuoi essere un vampiro? No, che non... Allora, allora, per il momento non voglio essere un vampiro, ok? Preferisco far finta di essere un vampiro con i vestiti di un vampiro Oh, sì, guardate che disonore alla nostra famiglia, mamma! Che cosa? Sì, dai, su, che cavolo ti sta vestendo come un vampiro? Voi, voi, indossare i nostri stessi abbiamenti, quando in realtà ancora non sei un vampiro Lo so, smisterino, ma ascolta Sì, vabbè, però è l'unica soluzione che abbiamo per il nonno Mamma, mamma, secondo te, mamma, secondo te, non è peggio forse dire la guccia a tuo papà o meglio a mio nonno? Nah, dai, smisterino Nah, perché non gli stacca la testa è tutto ok, però davvero... Saresti davvero carino dato, vampiro Però, però, allo stesso tempo sono anche bellocosi, quindi facciamoci bastare almeno per il momento così, va bene? Oh, mamma mia! Ah, sì! Comunque, papà, posso prendermi la PlayStation 5? Cosa? Sì, voglio prendermi la PlayStation 5! Ehm... Esatto, vanno solo schifo, non siamo ad Halloween con tutte queste credenze che i vampiri adesso sono coinvolti nei ragni e nei pipistelli, eccetera No, tu devi pulirti la tua camera come un bambino normale Ok, va bene, uffo, che cavolo! Vai Ecco, infatti, vai Vai a pulirti la camera Ciabolette Ok Ma la PlayStation 5 sai che non si trova da nessuna parte? Dolcetta, dov'è? E poi ormai hanno... Non so, ne hanno fatto tipo 40 di quelle PlayStation che sono riuscite Appunto, hanno finito i preordini, dove cavolo io la troviamo, sciabolette Oh, cavolo, ma che bello questo quadro, l'hai incorniciato alla fine? Ah, tu non l'avevi visto, sì che l'hai incorniciato, lo sai che cos'è, vero? Cosa? Cosa questo quadro? Un quadro con me? Non è un semplice quadro, fa parte del nostro evento di Discord, che non lo sai, non te lo ricordi? Ah, ok, no, no, aspetta un attimo, schiarisci un attimo le idee che non me le ricordo, così almeno lo dici anche i fan, vai Nel nostro Discord abbiamo un evento per le fanart, abbiamo una stanza eventi, dove c'è scritto tipo fanart on E in quella stanza ci sono tutte le fanart che loro manderanno, per poi, se vinceranno, finiranno qua Ne mettiamo una settimana Quindi praticamente questo... Ragazzi, ragazzi, non sto parlando con te, sto parlando con loro Ok, sì, va bene Dovete sbrigarvi perché questa cosa finisce il 30 novembre, ok? E avete solo sei giorni Quindi, insomma... Sì, quindi praticamente nel nostro Discord c'è appunto una categoria Che si chiama eventi E lì potrete andare a mettere nella stanza fanart on Tutte le varie immagini, o meglio, fanart che volete Mi raccomando, cioè, ci sono delle regole, immagino Sì, le regole stanno nella stanza tornei Ah, appunto, così almeno, ragazzi, mi raccomando Non copiate da nessuna parte Sono disegni... disegni e non disegni fatti in 3D Mi raccomando, disegni e basta Non infatti disegni nostri sulla famiglia E non ricalcati Magari ci sono anche eventi di Natale E non disegni infatti su Gacha Life Quando in realtà non sono disegni quelli Ma sono avatar Quindi mi raccomando, disegnarsi proprio Solo disegni Sì, esatto, perfetto, ho capito Ok E oltretutto questo è il nostro Discord qui Sì, esatto Perché c'è 25.000 like? Mi puoi far capire questa cosa? No, no, no Ti prego, dai Non ritorniamo a quella cosa Ti prego Oh, sì, sì, sì L'ultima volta ho chiesto 35.000 like Ma dai, ma l'hai incorniciato pure Ma non ci posso credere Assolutamente sì Li abbiamo trovato tutti di tanto Oh, sciapolette, no 36.000 Ma come? Quindi praticamente quando avevi chiesto Che noi volessimo un figlio in più E io avevi chiesto solamente 15.000 Siamo arrivati a 36.000 No, 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 no Sì, e oltretutto quello lì serve solo per conferma Perché se mi danno 25... Anzi, sai che ti dico? Sai che ti dico? Cosa? 30.000 30.000 E io faccio un bambino No, no, no Io faccio un bambino Aspetta, lo vai procurare tu Tipo inseminazione artificiale Giusto? Mica faccio un bambino No, 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 col tuo sangue Cosa? Quindi dobbiamo fare veramente Dobbiamo fare letteralmente un bambino Come si fanno i bambini nella vita reale Sì, sarà un miscoglio tra il mio sangue e il tuo sangue Oh, porche miseria Che cos'è sta cosa? Mi raccomando, le fanart Infanarton Sì, ho capito Ce l'abbiamo detto questa cosa Come? Ma perché mi hai rafinato il giardino Ma il mio muro Aspetta tu Ok L'abbiamo capito Sì I like Mi raccomando Cosa? Mettete like No, 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 no Pure tu no Sì, sì No, perché? Perché dovrebbero mettere like? Almeno lo sai perché devono mettere like? Sì Perché? Per il nuovo bambino Lo devono mettere, lo devono mettere No, no No, no, ragazzi Vabbè, 30.000 lecche non ci arriveremo mai Nero nemmai Cioè nel senso ci siamo arrivati qua Ma credo che non lo vorrebbero Io compito tutti i nostri fan No, no, non ci arriveremo mai A 30.000 lecche Io non voglio più un bambino Dolcetta, dai È troppo per matura fare un bambino Non ci siamo neanche sposati Ma non ci siamo neanche sposati Ma non ci siamo neanche sposati Ma non ci siamo neanche sposati Perché stai spaccato il resto? Perché stai spaccato il resto? Perché stai spaccato la testa, te lo giuro Ah, per aumentare la cosa? Per aumentare la cosa? Deve essere più solleocevole Ah, giusto Ma cosa? Ma voglio anche spaccato Spacca tutto Così almeno facciamo una reggia Non ci sono tardi Sì, facciamo una bella reggia Facciamo una bella reggia Non ci sono E vedete i miei fiori Quanto più carino Io non vi sopparto Adesso Per il giorno in cui vi mangerò una buona Ma che ho fatto? Vabbè, comunque In ogni caso Beh, in effetti hai ragione Togliamo il sabato Così facciamo una bella reggia Una sorta di Come ti dice Un punto dove effettivamente Noi ti possiamo sempre vedere Incontrare Senza la forza Uscire dal giardino No, non mi piace essere stalker Comunque Ma i miei fiori Cos'è stato questo suono? Oddio L'avete sentito? Era in casa tua? Proveniva No, proveniva da casa di Zoro così Non è andato dietro Eh La mia? Ma in che senso? Non conosco nessuno Ma lei chi sa la forza Prima di venire qua? Sì Questa storia non mi piace Deve mandare a controllare ragazzi No Sì Elox Se voglio dire È capitato qualcosa Nella casa del tuo amico Che fa Non lo vai ad aiutare Non lo vai ad aiutare Mi sono ricordato che Ho una cosa da controllare Sì Ma come Elox? No, Elox Almeno rimani qua Rimani qua Rimani qua Vedere se esce qualcuno Esatto Bravo Non fare Ma che fifone il tuo amico però Eh lo so che ci vuoi fare Andiamo vediamo Chi entra per primo Ok Grucco ma stai facendo traslochi Stai cambiando mobili Perché non c'è più nessun mobile qua In realtà no Ok Lì c'era la cucina E qua la mia tv Adesso che figlio ha fatto la tua cucina? Cucina 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 Ah ok Dei ladri Sangue Ok Non ho spostato Io lo giuro Grucco cosa hai fatto Grucco Niente Che schifo Ma dai Mi ricordi senso sciamolette Ma che schifo Ok aspetta Forse perché lei Effettivamente è un vampiro È normale che beva Ragazzi Sangue di capra Sangue di capra? Come sangue di capra? È una scia E che cavolo ci fa? Allora che ci sono entrate Delle capre ferite Avete sguazzato delle capre in cucina Non mi pare no Appunto cioè non credo proprio Dov'è? Dov'è? Oh 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 C'è? C'è la porta aperta E c'è pure la finestra aperta Attenzione Ok Ma Però Questa finestra è da verso la prigione Delle capre Delle capre Delle pecore Sono lì Aspetta Aspetta Andiamo 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 Voglio andare a vedere Ok state attenti Sono qua Cacchio Che male Ok Via 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 tutti quanti Ma Che ci fate qua? C'è successo? Non lo so ci sono Hai trovato delle capre? E vabbè Voglio dire Non per forza Cosa? Cosa che entrano queste capre? Voglio dire Sono entrate in casa inizio Cruca per essere Sono scappate dalla finestra Cosa? È stato mio padre In che senso? C'è la madre di mio padre Adosso a tutte le capre Le pecore Insomma quello che sono Ok È stato in casa tua Perché? Che ci fa in casa mia? Perché il tuo padre Dolce a testa È stato in casa tua C'è in casa inizio Cruca Voglio dire Che ne so Non lo conosco Cruca cosa hai fatto? Hai fatto un torsato Un vampiro Vedi che ti stacca la testa quello Potrebbe farlo a me Potrebbe farlo benissimo A te Non vado il problema Prima te magari Non ho fatto niente Mi avrebbe già ammazzati C'è un altro motivo dietro Non capisco Aspetta un attimo Cosa potrebbe essere? Aspetta un attimo Lui Sta magari manifestando la propria rabbia Del fatto che noi stiamo insieme Non su di me Perché magari potresti arrabbiarti tu Ma sui miei amici Ma non è colpa tua Come sei? Non è colpa mia Hai fatto malissimo Ah Perché di questo E che cavolo Probabilmente Il tuo padre Dolcetta Vuole manifestare La sua rabbia Sui miei amici Così che io Possa manifestare Il fatto che lui Se la prenda sui miei amici Perché poi Hai ragione Non ci avevo pensato Così che effettivamente Non vado a toccare Direttamente a te Voglio dire Dobbiamo dirgli Che sei diventato un vampiro Il più presto possibile Sì assolutamente È vero Io lo dobbiamo andare a dire Lo dobbiamo andare a dire Non che mi importi tanto Però insomma Aspetta ma dovremmo andare di nuovo Nella casa di prima Non credo Non potresti chiamarlo tu qua A tuo padre Eh sì infatti Insomma dovrebbe essere vicino Sarà Queen E facciamo che voi due Voi due Siete I nostri schiavi Ecco I nostri schiavi umani Che E praticamente Voi rimarrete così Fino a quando noi Non ci Non ci arrabbieremo Ci vi mangeremo Così almeno vi fate conoscere E lui capisce Che non deve disturbarvi Ok state al gioco Se volete sopravvivere Dovete ascoltarci Ok Ma i miei mobili Dove cuscino io Aspetta no 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 Non chiamiamolo Non chiamiamolo adesso Non vuoi che lo chiamare No no Dobbiamo farlo venire a casa Così è molto più formale la cosa Capito Certo rischiamo ancora di più Ma dobbiamo farlo ritornare a casa Va bene Quindi Erox Venite tutti i due E adesso Dobbiamo parlare col padre Siete pronti Cosa No Sì Dove dobbiamo parlare con il padre Stato il gioco Va bene Mi raccomando Seguite tutto quello che facciamo noi Prima di tutto Qualcuno deve andare in bagno In questo momento Eh No Dove dobbiamo andare in bagno Siamo sicuri Dovete fare la cacca Dovete fare la cacca Perché altrimenti Sì esatto Perché altrimenti Poi vi spaventate veramente Eccolo con il continente Ma non è vero Io già l'ho fatta Vabbè Ok perfetto Abbiamo capito Dovete andare in bagno Va bene Va bene Ok Ok dolcetta Tanto devo poter essere veloce a venire Quindi chiamalo adesso Ok siete pronti Vai No Ok Papà L'abbiamo fatto Ho trasformato Sbrizzeri in un vampiro Sbrizzeri in un vampiro Vabbè Sbrizzeri in un vampiro Sbrizzeri in un vampiro Sbrizzeri in un vampiro